Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O rifugio dei miseri, caro Sant'Antonio, noi ringraziamo il Sommo e il Dio per aver accordata tanta virtù alla Tua potenza, con cui soccorri ogni sorta di afflitti. Ti chiamino pure le genti il Santo dei Miracoli, il Tamaturgo per eccellenza, perché Tu realmente lo sei. Noi stessi siamo testimoni della Tua grandezza, quando per Tua potente intercessione venne liberata dal male quella persona, per cui te ne rendiamo sinceri ringraziamenti. Oh, quanto ne è riconoscente il nostro cuore, come siamo pieni di gratitudine per Te. A tutti faremo conoscere la Tua gloria e potenza, ma Tu però, oh amabile Santo, compi la grazia, conservaci col corpo sempre pura l'anima. E così, dopo averti esaltato qua giù in terra, come Avvocato potentissimo, siamo fatti degni di venire in cielo ad esaltare insieme il nostro Dio di misericordia. Amen. Quante volte, oh mio Signore, in mezzo ai dolori e all'avversità della vita, vacillai intorno alle Tue promesse, confidando più negli uomini che in Te. Abbi pietà di questo povero peccatore e per l'intercessione di Sant'Antonio accresci la mia speranza e soccorrimi nelle mie presenti necessità. Dagli scritti di Sant'Antonio La speranza, affinché non diventi presunzione, deve essere fondata su premeriti e le promesse di Gesù Cristo e congiunta ad un santo dimor di Dio, che è principio di sapienza. Fioretto Abbandono intero nelle mani della Divina Providenza O Dio, Padre buono e misericordioso che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al Tuo popolo Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione Santifica ogni famiglia Aiutala a crescere nella fede Conserva in essa l'unità, la pace, la serenità Benedici i nostri figli Proteggi i giovani Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine Sostienici Sant'Antonio prega per noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.